L'Italia, così ricca di cultura e tradizione, ha una risorsa che da sempre la pone ai vertici su scala mondiale, l'ospitalità. Si tratta di un patrimonio doppiamente ricco perché espresso su due orizzonti, l'accoglienza e la ristorazione. La nostra stessa identità culturale, l'italianità, si consolida e si manifesta proprio in questi ambiti, offrendo bellezza, gusto, eleganza, prodotti e servizi unici al mondo. In questo scenario, il territorio lariano è uno degli esempi più dinamici e luminosi. Non a caso, proprio qui, nel 2014, è nata la volontà di dar vita a una realtà formativa capace di creare figure professionali d'eccellenza nell'ambito del turismo, dell'ospitalità e della ristorazione. A Cernobbio, nella prestigiosa sede di Villa Bernasconi, è nata così la IAT, l'International Academy of Tourism and Hospitality Lake Como. In seno alla Fondazione e Istituto Tecnico Superiore del Turismo e dell'Ospitalità, ha preso il via un percorso formativo di livello internazionale, un'accademia pronta a diventare un punto di riferimento per il mondo intero. Ho trovato fin da subito quest'ambiente, un luogo molto accogliente, un corso molto interessante, un'opportunità irripetibile e che non dovevo lasciarmi scappare. Ho trovato un livello didattico molto alto, un corpo docenti davvero desideroso di formare dei giovani. Una cosa che mi affascina di questo progetto è andare contro la standardizzazione, ritrovare l'italianità, in quanto siamo la patria della cucina, della